Il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, salva una signora dallo scippo della borsetta. Il primo cittadino ha fermato con la sua auto lo scippatore seriale che aveva già colpito quattro volte in paese, cogliendolo in flagranza di reato. Fondamentalmente stavo facendo il giro di controllo, ho visto questa persona che strappava la borsetta alla signora, poi mi ha dato una spinta, aveva lasciato la moto praticamente dove io avrei dovuto svoltare a sinistra e quindi ho soltanto impedito con la mia auto che lui andasse via con la moto. Dopodiché lui ha cercato di nuovo, la moto è caduta, quindi ha cercato di scappare a piedi con la borsetta e in quella sono intervenuti altri due cittadini che l'hanno fermato, dopodiché sono arrivato anch'io e l'abbiamo tenuto lì, abbiamo costituito la borsetta alla signora che nel frattempo si è rialzata, una vicina l'ha fatta entrare in casa per darle le prime cure, nel frattempo ho chiamato i carabinieri che sono arrivati immediatamente e hanno poi gestito loro la situazione, quindi davvero io ho fatto molto poco. Meno male che è finita così, poi io dico sempre che è meglio che queste azioni le svolgano le autorità competenti, le forze dell'ordine perché sono più preparate, in questo caso è andata bene, per senso civico è chiaro che io non potevo non intervenire anche in qualità di ufficiale pubblica sicurezza, però ripeto è giusto che se ne occupino loro e tra l'altro so che erano già sulle sue tracce, l'avrebbero comunque preso nei prossimi giorni.